Allora, l'obiettivo di questa presentazione è quello di mostrare per alcuni casi test rappresentativi del comportamento dell'impianto industriale realizzato in Factory EU e che è stato utilizzato come ambiente operativo per l'attività di un soft PLC di cui s'era implementata la logica di controllo. Dunque, verrà dato un breve sguardo al modus operandi dell'intero impianto industriale facendo riferimento alle varie parti da cui è composto. Successivamente poi saranno discussi due video illustrativi del sistema in funzione, il primo rappresentativo del comportamento generale del sistema e il secondo del comportamento del sistema in risposta al verificarsi di un caso critico. Questa illustrazione dà una vista completa dell'impianto realizzato in ambiente Factory EU. Sostanzialmente l'impianto, da come è possibile leggere dall'elaborato di tesi a cui tale presentazione fa riferimento, è dedito alla produzione nonché all'assemblaggio di materiali. L'intero processo fisico si conclude in quattro fasi. C'è una prima fase di lavorazione, successivamente una fase di sorting, poi una fase di assemblaggio e per concludere una fase di conteggio dei prodotti finali. Sostanzialmente per la fase di lavorazione sono stati utilizzati due machining centers, come vediamo in figura. Machining centers, che sono delle stazioni di produzione offerte dal simulatore, composte ognuna dalle quali da un braccio meccanico e da una macchina a controllo numerico. Sostanzialmente tali stazioni di lavorazione attendono l'arrivo di un materiale grezzo, che in questo caso è stradata verso l'ingresso di questo centro di lavorazione mediante una parte iniziale dell'impianto. Qui non è ben visibile, ma si tratta di un singolo nastro trasportatore su cui è apposto un emitter. Emitter che genera la materia prima e quindi la pone in ingresso al centro di lavorazione, non appena la macchina CNC di quest'ultima risulta essere libera e non occupata in un'altra lavorazione, simulando così un ingresso controllato di materie prime. Sostanzialmente qui le due macchine, i due centri di lavorazione lavorano in parallelo e una è configurata in maniera tale da produrre dei materiali di primo livello di tipo base, un'altra per la produzione di materiali di primo livello di tipo coperchi. Basi e coperchi sono fatti stradare ognuno sui rispettivi nastri di uscita ai centri di lavorazione e poi convergono verso un nastro comunque singolo e comune ad entrambi i pezzi. Questo nastro comune è il nastro di ingresso al processo di sorting che avviene in questa zona qui, mediante un sensore visivo ed un pusher. Sensore visivo che è detta l'attività per l'appunto del pusher, il quale non appena il sensore visivo che è configurato in maniera tale da rilevare delle basi rileva per l'appunto un materiale di tale tipo, il pusher viene attivato e spinge le basi su questo secondo nastro, quindi secondo questa vista il nastro di destra, mentre invece quelli che sono i coperchi sono lasciati scorrere sul nastro comunque principale. Dopo questa attività quindi abbiamo un nastro di destra composto da solo basi, un nastro di sinistra composto da solo coperchi e entrambi i nastri stradano i materiali verso un'attività di sorting realizzata mediante un pick and place a due assi e a supporto abbiamo su ogni nastro delle barre posizionatrici e dei sensori di rilevamento. Il sensore di rilevamento attiva la barra posizionatrice nel momento in cui arriva un prodotto e le morse della barra posizionatrice stringono e riposizionano quindi il prodotto. Quando entrambi i nastri hanno un materiale riposizionato e quindi quando entrambi i sensori di rilevamento sui nastri sono attivi, il pick and place viene fatto partire in maniera tale da allungarsi verso avanti, andare a prelevare il coperchio, risalire, tornare indietro, riscendere, apporre il coperchio sulla base e ritornare in posizione di riposo. Non appena torna in posizione di riposo sostanzialmente la barra posizionatrice che contiene il prodotto si alza per qualche secondo e il prodotto scorre su questo nastro di uscita. Nastro di uscita che ha presente una fotocellula per il conteggio, che è detta il conteggio dei materiali, mostrato poi sul display della dashboard. Sostanzialmente c'è anche una switchboard in ingresso all'impianto con due tasti di start e stop per avviare e stoppare quello che è il processo di produzione, quindi l'intero impianto. Per il riferimento al dispositivo soft PLC, il runtime Open PLC è dotato di un web server a cui ci riferisce per la configurazione del dispositivo, nonché per il caricamento e la messa in esecuzione dei vari programmi. L'anteprima video che vediamo è da un'immagine di questa interfaccia web, che è stata sfruttata oltre che per il caricamento della logica di controllo, anche per la configurazione di una comunicazione fra il dispositivo soft PLC e l'ambiente di simulazione di Factor EU. Quella che è stata la comunicazione è stata comunque resa possibile mediante riferimento a quello che è un bus di campo, bus di campo Modbus, e nello specifico è stata utilizzata la versione TCP IP del protocollo, che sfrutta la rete LAN Ethernet per lo scambio di messaggi. In questo caso specifico Factor EU è stato configurato come dispositivo di slave device, un Modbus TCP IP server, il cui dispositivo master, il runtime di Open PLC, si riferisce remoto per la lettura di quelli che sono i registri interni dello stesso. Attraverso una configurazione di questo tipo è stato possibile far comunicare due ambienti software realizzando un'attività di controllo. Ovviamente per ulteriori informazioni, sia riguardo l'implementazione della logica di controllo alla base del dispositivo, che del setting up fra ambiente Open PLC e ambiente Factor EU, si rimanda comunque alla documentazione di tesi. Questo breve video che farò partire presenta il comportamento generico del sistema, dettato dalla particolare implementazione della logica di controllo con cui è stato comunque caricato il dispositivo di controllo. Sostanzialmente quindi viene avviato il dispositivo di controllo, il Soft PLC, e un messaggio di avvenuta connessione fra Open PLC e Factor EU è mostrato all'utente. Ritorniamo quindi in ambiente Factor EU e qui viene presentata una vista più accurata di quelle che sono i due nastri d'ingresso alle stazioni di produzione, con i rispettivi emitter per la generazione di materie prime. Successivamente viene mostrata la zona di uscita dell'impianto con la dashboard che segnale il conteggio dei pezzi prodotti, conteggio dettato dalla fotocellula in fondo. Sostanzialmente si avvia la simulazione, si preme il pulsante di start dell'impianto e il sistema quindi viene messo in funzione. Vediamo che due materie prime sono quindi poste dai bracci robotici nelle rispettive CNC, una produzione a base e l'altra un coperchio. Sostanzialmente due materiali poi di primo livello sono estratati verso un nastro comune per l'attività di smistamento, di sorting. Vediamo che sostanzialmente l'attività di sorting è realizzata mediante un sensore visivo, rilevatori di base che è detta l'attività del pusher. Secondo tale approccio basico per chi sono estratati su due nastri separati verso la fase di assemblaggio. Non appena i sensori di prossimità sono veri attivano le rispettive barre posizionatrici che posizionano i materiali per la composizione del prodotto finale svolta dal pick and place. Quando il pick and place ritorna in posizione di riposo la barra posizionatrice si alza, fa scorrere il prodotto verso l'uscita e la fotocellula detta il conteggio mostrandola al display. Questo è il comportamento classico che avviene ciclicamente fin quando vediamo non si preme il pulsante di stop, pulsante di stop che frizza l'intero impianto e quindi sostanzialmente tale fase di stop permane fin tanto che non si ripreme il pulsante di start e che per l'appunto riattiva il processo da dove era stato fermato. Quindi vediamo che l'impianto assume il suo comportamento classico, attività di sorting, attività di assemblaggio, mentre le due macchine CNC continuano nella produzione. E qui vediamo che la fotocellula aggiorna il conteggio. Sostanzialmente qui c'è una descrizione di quello che è il caso critico che va gestito proprio dall'impianto. E' il caso critico che si verifica nel momento in cui le due produzioni di una base e un coperchio si concludono in istanti di tempo prossimi. In tal caso i due prodotti sarebbero emessi in uscita alle stazioni uno dopo l'altro risultando su un nastro comune troppo ravvicinati. Ciò non permetterebbe quindi una corretta finalizzazione dell'attività di sorting svolta dal pusher. Stiamo parlando quindi di questo caso qui, vediamo i due prodotti primo livello troppo ravvicinati. In tal caso quindi si nota che all'atto del rilevamento della base il pusher viene fatto partire, però quando viene rilasciato il brush del pusher entra in conflitto con quello che è il pezzo direttamente successivo, quindi un coperchio. Tale caso critico comunque riguarda anche l'eventualità di una produzione di tale tipo, quindi coperchio e poi base. In questo caso nel momento in cui viene rilevata la base il nastro non ha trasportato quello che è il coperchio fuori dalla zona d'azione, dal raggio d'azione del pusher che quindi li pusha entrambi. Per far sì che l'impianto non ricada in tale caso critico, tra la produzione di una base e di un coperchio deve esserci un gap temporale di almeno due secondi. L'impianto è quindi dotato di due sensori di rilevamento, due fotocellule poste in uscita ai centri di produzione. Se la fotocellula evidenzia la produzione di un materiale di primo livello e successivamente, entro due secondi, venisse rilevato anche l'altro materiale di primo livello in uscita dalla rispettiva stazione, allora il nastro di uscita del prezzo prodotto per secondo verrebbe disattivato per pochi secondi in modo da distaccare le due produzioni. Di solito quindi c'è un video illustrativo della gestione di tale caso, quindi sostanzialmente il sistema è in esecuzione, le due macchine a controllo numerico sono caricate dai bracci meccanici con le rispettive materie prime e la produzione è tale da, vediamo, si produrrà prima una base e poi successivamente un coperchio. Il nastro del coperchio viene disattivato per qualche secondo in maniera tale da distaccare due pezzi per quella che è l'attività di sorting che come vediamo viene svolta correttamente. Da qui il sistema comunque assumerà il comportamento precedentemente illustrato e considerato quello di gestione del caso generale.